Un nome forte di rilevanza nazionale come possibile candidato governatore del centro-destra in Toscana è quello di Giovanni Toti, consigliere di Berlusconi. Chi lo vedrebbe come un'unica carta per non relegare il centro-destra a una corsa di retrovia in Toscana commenta una personalità politica così forte consentirebbe a tutti di fare un passo indietro per farne uno avanti verso un centro-destra coeso che si ponga come reale alternativa alla riconferma di Enrico Rossi. Ma Toti, europarlamentare, davvero sarebbe disponibile? Il condizionale appare più che d'obbligo con tutti i conseguenti se e ma dovuti al braccio di ferro interno a Forza Italia con Toti, consigliere politico speciale di Berlusconi, ormai contrapposto a Verdini la cui leadership in Toscana finora non è mai stata messa in discussione. Così restano sul tavolo tutti i nomi in campo e anzi se ne aggiunge qualcuno, Claudio Borghi per la Lega che sabato continuerà il suo giro elettorale a Prato, Giovanni Donzelli per Fratelli d'Italia che invece sarà sulla costa e poi Gianni Lamioni in auge in base al patto fra Forza Italia-Verdiniana e il nuovo centro-destra che non si sa ancora quanto vigore avrà ma anche l'ex assessore comunale a Prato, Giorgio Silli, vicino all'ex sindaco di Pavia, Cattaneo ora responsabile degli enti locali di Forza Italia. Resta in campo anche Massimo Mallegni che sarebbe preferito dal tandem Bergamini-Toti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.